buon pomeriggio a tutti siamo ancora qui per un digital talk di un export manager quindi l'associazione che raggruppa export manager professionisti o dipendenti che supportano le imprese del loro export che cercano di fare in modo che le imprese possano trovare più agevolmente professionisti per andare sui mercati esteri che possono anche capire quali sono i criteri che accomunano da questa professione e quali sono i criteri che le competenze che hanno questi professionisti che supportano le imprese lo stiamo facendo anche con uni che proprio oggi ha dato il via alla pubblicazione del figura professionale dell'import export manager con competenze in ambito di internazionalizzazione quindi questo processo che era in corso da ormai un anno e mezzo adesso è arrivato in fondo e stiamo arrivando all'indirittura d'arrivo il 12 di marzo avremo proprio un digital talk ve lo anticipiamo noi parleremo con i referenti di uni che ci ha seguito in questo percorso quindi avremo anche modo di capire meglio la vera e questa norma che dice quali sono le competenze dell'exim manager quindi l'export import manager lo potrà vedere tra questo talk che faremo tutti quei talk che noi facciamo come un export manager hanno dei relatori che sono attivi nel campo dell'export che con competenze differenti nel capito nel campo del digitale del commercio del del mercato paese o del settore merceologico in qualche caso su temi alternativi e trasversali quali possono essere i finanziamenti oggi andiamo ad avere tra di noi come relatori due figure di spicco abbiamo il presidente di uni export manager giuseppe vargiù che ci parlerà appunto della della rinnovata visione dell'export manager da qui al duemilatrenta quindi avremo uno sguardo un po nel futuro di quello che può essere la nostra professione con il divenire negli anni e nel prossimo momento in futuro e poi a seguire avremo massimo cugusi che è l'head of international development presso la dialogo ausili e ci parlerà del del premio dell'export l'oscar dell'export italiano e la selezione dei migliori case history e dei professionisti dell'export quindi degli export manager eh che andremo a selezionare per questo premio ambito quindi io direi di passare la parola a giuseppe vargiù per il suo talk appunto sulla visione la rinnovata visione dell'export italiano da qui al duemilatrenta a te la parola giuseppe grazie marco cerco di condividere lo schermo un attimo di pazienza vero schermo sì assolutamente sì ok cerco di spostarmi va bene e niente buon pomeriggio a tutti allora quello che parleremo di questo tag esportitalia duemilatrenta che da un po abbiamo cominciato a far circolare l'export Italia duemilatrenta significa un invito che abbiamo non solo agli export manager ma all'export del sistema Italia a guardare con una visione medio periodo insomma non non con la visione ristretta e di paraochi che abbiamo avuto fino adesso serve un cambiamento perché se ci pensate il commercio mondiale negli ultimi dieci anni è raddoppiato no quello italiano è rimasto praticamente fermo non solo italiano della verità anche l'Europa è rimasta ferma perché tutta l'economia europea era legata al mercato domestico e ai sussidi mentre il resto del mondo è cresciuto no poi il covid tutti pensavano che sarebbe stata una catastrofe gigantesca se uno va a leggere i dati del commercio internazionale il commercio internazionale a livello mondiale dati World Bank si è ridotto appena del 6% e in questo caso il nostro export si è ridotto appena del 9% per cui in qualche modo abbiamo tenuto botta no ora il ragionamento da fare sia da parte nostra come professionisti e come imprenditori sia da parte un po più in altra dal da parte dei politici che devono capire come uscire fuori da questo guaio è quello di sfruttare la crescita del post covid perché dal 2010 al 2020 c'è stato un raddoppio del fatturato ancora di più ci sarà dal 2021 al 2030 quindi è un'opportunità che noi non dobbiamo perdere però bisogna bisogna in qualche modo cambiare cambiare registro cambiare rapidamente con questa visione la proposta che facciamo noi è innanzitutto non è che stiamo inventando niente perché comunque già dal 2020 il governo italiano ha messo ha schierato sia soldi sia proposte con una cosa che si chiamava patto per l'espo però quello che noi diciamo è dargli attuazione perché una cosa è fare i patti altra cosa e mantenerli cosa che fino adesso non non è necessariamente avvenuta come vedremo quantificare un obiettivo che potrebbe essere quello di arrivare a 300 mila aziende italiane esportatrici tantissime aziende piccole e medie che ci sono si arriva a questo obiettivo portando competenze dentro le aziende l'esport deve essere più competitivo vado rapido qui poi cercheremo di approfondire più avanti l'esport più competitivo più collaborativo dobbiamo lavorare insieme fra fra colleghi fra aziende fra aziende e partner esteri c'è c'è un nuovo modello di fare esport dovremo premiare le migliori casi di le migliori pratiche di esport e non a caso dopo questo intervento massimo cugusi vi proporrà proprio la proposta che abbiamo di portiamo avanti di premio oscar per l'esport italiano e ultimo ma non certo per importanza diciamo che intervenire su una pubblica amministrazione che deve essere semplificata deve essere più trasparente deve darsi obiettivi chiari deve deve rendere conto anche perché li paghiamo noi questi signori noi siamo convinti anche perché abbiamo parlato con con gli esponenti gli esponenti che gestiscono a livello politico il sistema italia che il governo ha ben chiaro il fatto che è soltanto l'esport o la crescita dell'esport che già oggi vale il 30 per cento del pil che consentirà al nostro paese di uscire dalla crisi non è solo questione di recovery fund è proprio un discorso di rimettere in moto una macchina di esport che che consente di esportare questi studi hanno documentato che se per ogni 10 per cento in più di aziende che esportano ne viene fuori un tre per cento in più di volume globale dell'esport quindi è necessario avere maggior numero di aziende esportatrici ora il governo ha comunque chiaro questo concetto tanto è vero che ha schierato tantissimi soldi l'anno scorso sui piani esport e in particolare sul patto per l'esport però 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 c'è questo nonostante i tantissimi soldi noi siamo convinti che chi guida a livello di governo ha il volante scollegato dalle ruote perché le ruote che devono attuare la guida vanno da un'altra parte andiamo a vedere ieri c'è stato proprio un seminario dove si parlava di dei risultati del patto per l'esport no tutti gli enti lice sace camere di commercio parlavano di questo e si gloriavano allora il patto per l'esport era una roba che si è inventato il ministero l'anno scorso per dire dobbiamo investire sull'esport con tre principi fondamentali un unico cabina di regia che governa il sistema dell'esport un coordinamento di tutti gli attori coinvolti tutti questi nomi ma il ministero degli esteri il ministero di finanze si messace camere di commercio regioni no una politica del paese mirata proprio a sviluppare l'esport e poi un monitoraggio dei risultati tre principi sacrosanti c'eravamo anche noi nel patto per l'esport anche noi l'abbiamo firmato questo è quello che sono i patti puoi mantenerli andiamo a vedere ripeto ieri 25 febbraio hanno fatto questo seminario dove c'era lice dove c'era le associazioni di categoria dove c'erano persone del ministero ed erano tutti contenti si auto complimentavano dei risultati che avevano fatto ed erano contenti di aver rispettato il mandato che gli era stato da questo questo seminario tra l'altro sul situice hanno detto che lo pubblicheranno per cui a breve lo potrete rivedere era molto interessante molto interessante andare a vedere che cosa hanno fatto perché sicuramente hanno fatto delle robe interessanti però diciamo che potevano fare molto di più e meglio almeno a mio sommesso parere allora sempre dal seminario di ieri questo è quello che diceva lice gli obiettivi della nuova policy dei servizi c'è qual è aumentare il fatturato delle del di chi già esporta aumentare il numero dei risultati questa cosa per intenderci che la dicevano ieri la dicevano anche cinque anni fa ve lo assicuro questo è quello che hanno fatto quindi aumentare il numero delle aziende esportatrici bene nel 2014 erano 145 mila le aziende esportatrici poi guardate un po come sono scese nel 2020 sono diventate 123 mila questo è quello che hanno detto questo è quello che hanno fatto ma c'è di più l'anno scorso nel 2020 si sono spesi 2,3 miliardi ossia sono stati allocati dalla politica sull'export 10 volte più soldi che non in passato per ottenere questo risultato dopodiché questi soldi a ottobre erano già esauriti dopodiché se noi andiamo a chiedere chi ha preso questi soldi non si sa sappiamo soltanto che le aziende sono diminuite però non c'è una trasparenza su chi ha percepito questi fondi quando i fondi per l'exporto sono fermi da sei mesi adesso è uscito un bando che si chiama voucher 10 lo conosciamo tutti questo bando questo bando praticamente dispone di 50 milioni pensate quanto importante il temporary manager rispetto all'exporto generale nella visione export del nostro sistema però diciamo intanto intanto hanno tirato 50 milioni meglio di niente diciamo ma non è finito questo bando che tutti aspettavano da settembre devo dire è arrivato adesso dopodiché ha previsto dei tempi di erogazione dei soldi che vanno a finire a fine 2022 anzi in alcuni casi a fine 2023 questo per dire la visione di lungo periodo del sistema Italia è questa dopo ancora per le aziende che vogliono ingaggiare un temporary export manager ci sono una serie di limitazioni il click day per cui tutti a correre perché avremo dieci secondi per aggiudicarsi la cosa dopo i soldi saranno erogati a distanza nel tempo dopo la scelta dei 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 temporary manager non sarà libera perché dovrà essere dovranno attingere da un elenco particolare ancora la burocrazia per qualità per qualificare i colleghi temporali export manager è massimo la burocrazia per qualificare le società di consulenza che ingaggiano comprano e vendono in alcuni casi i gli export manager è minima per intenderci un un export manager esperto dovrà fare dovrà certificare tutta una serie di di esperienze stravaganti pressoché impossibile no una società di consulenza potrà assumere chiunque no è indipendente non sa le lingue non sa niente eccetera adibirlo come export manager e non dovrà rendere conto a nessuno questo è lo stato attuale questo per dirvi come è stato gestito il fatto dell'espo in realtà ci sono state delle cose utili anche delle cose importanti non le voglio disconoscere però questi sono problemi seri che devono essere risolti su quali se vogliamo se vogliamo crescere dobbiamo intervenire ora noi cerchiamo di essere positivi no intanto il nuovo governo ha riconfermato la stessa squadra politica che era presente nel ministero degli esteri alla gestione dell'aspetto estero quindi stiamo parlando cioè la squadra che era con conta era di maio e di stefano adesso è draghi di maio di stefano lo staff resta sempre lo stesso però attenzione questi sono sempre quelli che guidano noi vogliamo aiutarli a collegare il volante alle ruote cioè vogliamo che queste risorse per l'export siano mantenute possibilmente siano ampliate e arrivino alle aziende e agli export manager quindi che cosa facciamo per aiutarli siamo propositivi diamo delle idee diamo delle proposte abbiamo una visione che non è una visione di propaganda non è una visione di apparati e siamo tutti piccole aziende o professionisti quindi non è neanche una visione di lobby eh e su questo sono con noi anche diverse altre associazioni anche associazioni come i mito come ancimple ci hanno dato come dire il loro consenso il loro la loro approvazione no e quello che vogliamo far partire questo programma esportitalia che non si pone di fare la guerra alle alle istituzioni vuole dare una mano da parte della gente che tutti i giorni lavora sul campo sul marciapiede direbbe alzando ok allora queste sono alcune delle tesi allora l'idea è raccogliere nel documento esport italia 2030 una serie di tesi di idee e qui ce n'è qualche una innanzitutto vogliamo dare al patto a quello che è scritto il patto per l'esport che abbiamo visto prima un'attuazione vera dopo bisogna che siano allocate le risorse in modo intelligente non ha senso regalare 100 mila euro a fondo perduto a un'azienda che fattura 20 miliardi mentre sarebbe molto meglio con quei 100 mila euro da fondo perduto fare lavorare 10 piccole aziende che diventano esportatrici con 10 mila euro perché spesso gli basta a questo poco per smuovere la piccola azienda e consentigli di sfruttare il potenziale che hanno perché abbiamo delle aziende eccezionali in italia semplicemente la maggior parte di loro non esporta ancora spendere per il made in italy per fare pubblicità al made in italy e poi si arrivano gli spaghetti spaghetti come si chiamavano forse 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 massimo ci farà vedere una marca di spaghetti di dubai insomma che gli stranieri o fabio dal messico ce lo conferma c'è il made in italy e oggi un grande vantaggio un grande marchio di cui beneficiano i produttori di italian saudi dopodiché cerchiamo di darsi degli obiettivi ma degli obiettivi certi quantificabili precisi nel tempo io credo che l'obiettivo di avere 300 mila aziende esportatrici entro il 2030 sia un obiettivo raggiungibile certo ragionevole e ci possiamo dare bisogna volerlo fare naturalmente dopodiché l'obiettivo per raggiungere le 300 mila aziende si può esportatrice si può fare se ogni azienda ha accesso a un professionista sport manager o alle sue competenze o a un residente estero o a uno specialista digitale perché sono tantissime le competenze per l'esport e nessuno può fare da solo ancora l'esport deve essere più competitivo più collaborativo oggi si parla di sostenibile perché di sicuro l'italia ha un patrimonio di aziende che hanno un punto di forza soltanto per essere italiane di essere sostenibili non a caso tutto il come si chiama il nuovo next generation piano è incentrato sul sostenibilità e sul green quindi anche lì l'esport deve essere coerente con questo modello ancora dovranno essere premiate le migliori pratiche delle aziende degli imprenditori dei manager che dimostrano come si fa esport e lì massimo cugusi ci darà fra poco un esempio col suo geniale piano per premio per l'oscar dell'esport italiano ultimo diciamo che la burocrazia deve darsi una regolata cioè non non possono continuare a trattarci in questa maniera nel senso che quello che fa la burocrazia dell'esport italiano senza trasparenza senza rendi contare senza dare una responsabilità sui risultati non va bene si dice che si può imbrogliare una persona tutte le volte o si possono imbrogliare tutte le persone una volta ma nessuno può imbrogliare tutte le persone tutte le volte e la devono finire questi signori che gestiscono i soldi dell'esport di fare quello che vogliono e qualche uno glielo deve dire cerchiamo di farglielo di dirglielo con le buone maniere queste sono le prime tesi diciamo che c'è spazio per arrivare a 95 tesi c'era un signore che si chiamava martin lutero che ha fatto il primo manifesto a suo tempo faceva proprio 95 tesi bene su queste su queste tesi fatecele avere e le pubblicheremo nel manifesto questo è l'idea però l'obiettivo è migliorare tutti e fare potenziare l'esport cosa dobbiamo fare e questo è l'ultima slide grazie per la pazienza innanzitutto tutti gli argomenti su questa tematica forse faremo anche una pagina web vediamo come però il fatto di usare questo tag export italia 2030 può contraddistinguere qualunque vostro intervento qualunque condivisione su file sia che la pubblicate su facebook sia che la pubblicate su linkedin oppure su un social oppure su un blog e si fa riconoscere una corrente di pensiero che non è quella di export manager di un export manager attenzione è la corrente di chi lavora sull'esport e vuole far crescere l'esport perché è il motore della crescita nei prossimi anni con questo finito vi ringrazio per le domande siamo qui bene grazie giuseppe sì un po una una visione fuori dal coro fuori dal coro soprattutto istituzionale che però mostra quello che sono le reali necessità e anche i cruci di noi export manager che lavoriamo magari da tanti anni nel nostro ambito e ci vediamo precluso la possibilità di poter lavorare onestamente e con riconoscenza delle istituzioni per quello che facciamo a sostegno delle imprese e in qualche modo anche quindi del sistema italia perché se le aziende da 190.000 su 720.000 un motivo c'è quindi vuol dire che qualcosa non sta funzionando se le aziende smettono di esportare c'è qualcosa che nell'ingranaggio che non va come dovrebbe mentre dovrebbero poter esportare di più sì 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 no noi dovremmo ambire a a portare sempre più imprese all'estero visto che facciamo dei prodotti di qualità non a portare ogni anno qualche azienda in meno a esportare quindi cosa c'è che non funziona chi può dare da mano se non quelli che già esportano e invece sembra che quasi in qualche occasione come questa chi già esporta non venga considerato degno di partecipare o di essere agevolato nella sua azione quindi questo è un tema che possiamo approfondire anche dopo io direi che potremmo passare la parola al secondo relatore quindi proprio al massimo gugusi che ci ha anticipato ha pensato questa bellissima iniziativa del premio oscar dell'export italiano quindi quindi Grazie.